Anche nella nostra città, oggi 29 luglio, sarà ricordato l'attentato di Via D'Amelio, avvenuto 29 anni orsono, e che venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Porsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta Emanuele Alore, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Reddy Cosina, Claudio Traina. Nell'arge del Teatro Pirandello, nel pomeriggio di oggi, si svolgerà una manifestazione in suo onore, organizzata dalla CGL Agrigentina, con interventi programmati del segretario provinciale Alfonso Buscemi, al fine di ribadire il forte impegno della società sana per l'affermazione della legalità in ogni posto di lavoro, unica certezza per contrastare la mafia. All'evento parteciperà il procuratore di Agrigento Patronaggio, il prefetto Cocciufa, l'arcivescovo Damiano, il giornalista Bolzoni, il magistrato Sabella, il segretario regionale della CGL Mannino, il collegamento video, il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini. Tra gli appuntamenti serali è anche quello che si svolgerà al Tempio di Giunone, organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, delegazione di Agrigento. Parteciperà il giornalista Felice Cavallaro, Domenico Gozzo, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, Silvio Miceli, avvocato del foro di Agrigento, Salvatore Nocera Bracco, attore. L'evento, denominato 547 giorni, conversazioni in ricordo delle vittime della strage di Via D'Amelio. Intanto arriva puntuale oggi il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla strage di Via D'Amelio, che afferma come la memoria di quella strage che ha segnato così profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora una immutata commozione e insieme rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per stradicare le mafie, contrastare l'illegalità, spezzare connivenze e complicità che favoriscono la presenza criminale. Paolo Borsellino continua Sergio Mattarella e come lui Giovanni Falcone sapevano bene che la lotta alla mafia richiede una forte collaborazione tra istituzioni e società. Per questo si sono spesi con ogni energia. Da magistrati hanno espresso altissime qualità professionali, hanno intrapreso strade nuove, più efficaci nell'indagine e nei processi, hanno testimoniato da uomini dello Stato come le mafie possono essere sconfitte, hanno dimostrato che la loro organizzazione, i loro piani possono essere svelati e che i loro capi e i loro sicari possono essere assicurati alla giustizia. Per questo, continua Mattarella, sono stati uccisi. Non si sono mai rassegnati e si sono battuti per la dignità della nostra vita civile. Sono stati e saranno sempre, sottolinea il capo dello Stato, un esempio per i cittadini e per i giovani. Tanti importanti risultati nella lotta alle mafie si sono ottenuti negli anni grazie al lavoro di Borsellino e Falcone. La Repubblica è vicina ai familiari di Borsellino, ai familiari dei servitori dello Stato, la cui vita è stata crudelmente spezzata per colpire le libertà di tutti. Onorare quei sacrifici promuovendo la legalità e la civiltà è un dovere, conclude Mattarella, che avvertiamo nelle nostre coscienze.